Ben trovati in questa nuova puntata di Zona Blu. Abbiamo capito che le patologie si sviluppano a livello cellulare. L'abbiamo compreso durante il primo incontro con il dottor Giorgio Terziani, che ritrovo con piacere in questa puntata, Visit Professor in Discipline del Benessere, San Giorgio School in Brescia. E approfondiremo anche con l'altro ospite, il dottor Bartolomeo Allegrini, medico-chirurgo in medicina sistemica. Quanto è importante, dottor Terziani, iniziamo subito con lei, l'ossigenazione delle nostre cellule, quindi l'ossigeno per la nostra salute? Buonasera a tutti. Innanzitutto, l'ossigeno è la nostra fonte di vita. Senza ossigeno non si potrebbe vivere. Basti pensare, proviamo a stare dieci minuti senza respirare. Anche no. Non possiamo parlare. Proviamo a restare qualche giorno senza mangiare oppure senza bere. Sicuramente qualcuno può riuscire, anzi noi ci riusciamo. Quindi vuol dire che l'ossigeno è la prima fonte di vita. Se noi guardiamo questa slide, se vediamo che l'ossigeno è considerata la cenerentola a livello medico. Perché? Perché quando è che ti danno l'ossigeno? Quando è troppo tardi, quando sei in fin di vita. Eppure in questi anni abbiamo visto quanto sia importante. Ah, misurate la pulsimetria e quant'è la vostra pressione parziale di ossigeno. Cioè, doveva essere 98-99 per essere ben ossigenati. Bene, ma questo non vuol dire nulla. Perché cosa ce ne facciamo noi dell'ossigeno? Noi l'ossigeno lo combiniamo con l'idrogeno per produrre energia a livello mitocondriale dentro le nostre cellule. Allora, l'ossigeno ci permette di avere quella molecola di ATP che è la moneta di scambio di tutte le reazioni metaboliche del nostro organismo. Ora c'è un problema. Se noi siamo ben ossigenati, ma non abbiamo i mitocondri che funzionano, non utilizziamo l'ossigeno in maniera ottimale. Quindi, se l'ossigeno non viene consumato, questo si tramuta in radicali liberi. Quindi in radicali liberi e quindi acidosi, infiammazione. Se questo persiste, questa infiammazione diventa cronica. Quindi, dall'altra parte c'è una carenza di ossigeno. Quindi la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi provoca infiammazione e l'infiammazione poi provoca malattia. Allora cosa dobbiamo fare? Mantenere un adeguato livello di ossigeno a livello cellulare dentro i nostri tessuti. Perché l'ossigeno è la prima fonte di vita. Si possono fare varie terapie di ossigeno. Basta pensare all'ozonoterapia. Veramente un ottimo supporto per ossigenare i nostri tessuti, ma sicuramente è una terapia in fase acuta. Non possiamo farci tutti i giorni l'ossigenazione tramite endovena. Possiamo sicuramente intervenire, prima di tutto, a scopo preventivo, come abbiamo sempre detto, secondo quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, l'ambiente in cui viviamo, che permette di mantenere i nostri tessuti sani. Facciamo sempre il paragone dell'acquario. Allora voi pensate a un acquario. In un acquario dovevano vivere i pesci. Qualcuno di voi ha un acquario a casa e si preoccupa che l'acquario abbia un adeguato apporto di ossigeno e il nutrimento ottimale. Se no, i pesci muoiono. Pensate in quell'acquario e noi paragoniamo questo acquario al nostro mondo e pensate cosa stiamo mettendo dentro all'acquario. Vogliamo parlare del cibo? Posso parlare di cibo spazzatura? Di junk food? Di bibite sempre più gassate, colorate, dolcificate? E pensate a tutto ciò che è l'inquinamento, quindi le sostanze chimiche, gli idrocarburi, il particolato erodisperso, PM05, PM125, che proprio passa la barriera embrionale e sprogramma la vita. Parlavamo nella puntata precedente di epigenetica. Questo però danneggia anche i nostri mitocondri e quindi danneggia anche l'apporto di ossigeno. Se quell'acquario si riempie di queste tossine i pesci muoiono, ma noi questo non lo facciamo nell'acquario. Siamo abituati oggi, dando retta alla pubblicità oppure alla fretta di mangiare cibi malsani oppure di vivere un ambiente ormai, ahimè, troppo inquinato, a intossicare progressivamente il mesenchime, il tessuto connettivo, quindi quei tessuti dove vivono le nostre cellule. Quindi le cellule, non avendo più quell'adeguato apporto di ossigeno e di idrogeno a livello cellulare, non hanno più quello scambio tra ossigeno e sangue, dalla permeabilità della membrana cellulare ormai danneggiata, e questo cosa fa? Provoca malattia. Come questa slide insegna, vedete, la disfunzione mitocondriale è legata a tutte le patologie, e questo ce ne insegna la medicina mitocondriale, la fondazione di medicina mitocondriale. Ormai tutte le ricerche stanno andando in questo senso, quindi disfunzione mitocondriale, epigenetica, ambiente, acidosi dei tessuti, stile di vita errato, lo stress. Noi dobbiamo gestire questo attraverso cosa? Attraverso un'educazione continua nel fatto, nella consapevolezza di avere sempre un adeguato apporto di ossigeno dentro le nostre cellule, per produrre l'energia necessaria alla vita. Questo è proprio il segreto della vita. Pensate che il professor Cossarizza dell'Università di Modena ha dimostrato che è il DNA mitocondriale i reni che decide la longevità. Quindi è il DNA mitocondriale da dove viene? Dalla linea materna. Quindi è lì che noi dovremmo lavorare, sulla salute dei padri, delle madri, prima del concepimento. Pensate che oggi c'è un aumento vertiginoso dell'infertilità, soprattutto maschile, quindi diamo sempre la colpa alle donne. No, maschile, perché innanzitutto la mobilità delle spermatozoi è sempre più limitata. La quantità di spermatozoi è veramente a un livello mai visto prima. Si rischia il 60-70% di infertilità a livello europeo e si prevede una fertilità zero in Italia tra il 2030 e il 2050. Quindi dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare presto, dobbiamo iniziare a lavorare sulla salute dei padri, delle madri, prima del concepimento. Come possiamo risvegliarli questi mitocondri, dottore? Beh, risvegliarli, diciamo, ci sono diversi tipi di possibilità. Chiaramente intervenire sullo stile di vita è fondamentale perché chiaramente la nutrizione, l'acqua che beviamo e quindi scegliere anche le giuste acque, l'aria che respiriamo e poi eventualmente anche sotto il supporto di test come il test S-Drive, il test del bulbo, noi possiamo indirizzare l'attività di quei mitocondri con degli integratori specifici. Il self-food, di cui poi parlerà il dottor Terziali, è un integratore eccezionale che va proprio ad attivare quella capacità di questo organulo fondamentale di stabilire un habitat ideale di produzione energetica endocellulare. Perché? Perché noi dobbiamo pensare a quella che si chiama vitalità cellulare. Prima Giorgio parlava dello spermatozoo, proprio lo spermatozoo è il simbolo della perdita di questa vitalità che noi stiamo esprimendo a più livelli attraverso purtroppo anche i disturbi che stanno avvenendo in ambito di tante coppie che non riescono ad avere figli e che saranno sempre di più se non interveniamo subito. E quindi dicevo, proprio la perdita di questa vitalità che è anche legata al fatto che un danno cellulare noi non lo vediamo subito come malattia. Proprio gli studi che io ho fatto di medicina omeopatica, di omotopsicologia, di medicina funzionale, ci insegnano che la malattia avviene attraverso delle fasi diverse. Noi dobbiamo andare a intervenire prima nelle fasi prelesionali, nelle fasi precellulari. Non dobbiamo aspettare che si alteri l'equilibrio fra il citosol, dove il mitocondrio è una sorta di governatore energetico della cellula, e l'interstizio cellulare. Nel momento in cui è alterato quell'equilibrio, purtroppo si stabilisce una deconnessione fra cellula e l'ambiente esterno. Quindi sono tutti quei pazienti che ricorrono a cure, a diete, a terapie e non hanno successo. Perché siamo arrivati troppo tardi. La medicina deve essere proprio, diciamo come diceva il dottor Terziani, è urgente questo, la vita è urgente. Dobbiamo intervenire più precocemente perché altrimenti noi ci troveremo di fronte una società che avrà tanti malati, ma soprattutto avrà tante malattie non sono logicamente affrontabili, non etichettabili. Se noi pensiamo a tanti percorsi della salute, a tanti viaggi della speranza che fa la gente per ritrovare una propria salute, è perché non basta più la cura classica, il protocollo classico e ormai la gente se ne sta accorgendo. E quindi abbiamo di più la necessità, e veramente bisogna ringraziare anche imprenditori della salute come il dottor Terziani, che avete fatto vedere nella precedente puntata quel grande convegno che ci sarà a Bologna, dalla cellula all'anima, che mette insieme una sorta di Deus Ex Machina, che mette insieme tanti professionisti con anche impostazioni diverse. Questo è anche un altro grande potenziale umano, la valorizzazione della diversità e nell'approccio proprio alla cellula, l'attività del mitocondrio nell'ambito della cura del medico del futuro sarà un'attività indispensabile. Imprenditori della salute, è una definizione bellissima perché noi in zona blu raccontiamo le imprese, le imprese che raccontano di conseguenza il nostro meraviglioso paese. In realtà io sono un consulente di questa impresa, sono un consulente e mi occupo di formazione, di marketing, eccetera, e cerco di imparare tantissimo, soprattutto da professionisti e medici come il dottor Rallegrini, quindi la capacità anche di avere un approccio multidisciplinare, multifattoriale alla vera prevenzione e al supporto. Questo è fondamentale, ma nello stesso tempo è proprio il creare cultura, consapevolezza, è creare informazione, fare vera prevenzione. Per esempio, se noi dobbiamo parlare di malattia, nei libri di medicina, io ho letto, mi documento, mi piace, è la mia passione, mi piace e leggo reali rischi congeniti. Allora, se sono reali rischi congeniti, vuol dire che questi sono congeniti dalla nascita, da prima del concepimento. Allora, se questo l'abbiamo dimostrato con l'epigenetica e lo stiamo dimostrando con le disfunzioni mitocondriali della linea materna legati proprio a questo disturbo, questa disfunzione mitocondriale, che poi si può, come si dice, si può aprire a varie malattie, no? Basta pensare alla fibromialgia, alla stanchezza cronica, il cardiovascolare, i tumori. Ma ci possiamo mettere anche la sindrome delle gambe senza riposo? Assolutamente, il microcircolo, la microcircolazione. Ma dobbiamo partire dal motore della nostra vita, che sono le cellule, dai nostri mitocondri, già giusto apporto di ossigeno. Quindi la prima fonte, noi se non respiriamo non viviamo, se non espiriamo non buttiamo fuori l'andride carbonica, quindi ci intossichiamo, non è possibile. Il nostro motore, noi siamo una macchina perfetta. Allora, siamo una macchina a idrogeno, quindi, come dicevo, mangiamo per produrre idrogeno, per avere idrogeno attraverso il ciclo di Krebs. E respiriamo attraverso la respirazione mitocondriale per avere l'ossigeno, a portare l'ossigeno dentro i nostri mitocondri. Lì produciamo energia, energia dentro i mitocondri, l'ATP, la moneta di scambio. Senza ossigeno produciamo solo due molecole di ATP. Con l'ossigeno produciamo 36 molecole di ATP. Quindi è come avere un conto in banca, 2.000 euro o 36.000 euro. Fa la differenza, no? Se uno vuole andare in vacanza. Eccolo lì. Il nostro ideotro sulfazime, vedete, blocca l'ipossia, quindi la carenza di ossigeno, quindi il danno da erradicare i liberi, quindi l'infiammazione e il danno endoteliale. Qual è l'endotelio? L'endotelio, lo dovrebbe meglio spiegare il dottore Allegrini, però è l'organo più importante che ricopre i nostri vasi sanguigni. Se noi danneggiamo i vasi sanguigni e non abbiamo un'ottima possibilità di apportare ossigeno e funzionalità mitocondriale, c'è un danno endoteliale. Il danno endoteliale, sappiamo, no? La terosclerosi, tutte le infiammazioni legate proprio al tessuto endoteliale, come può avvenire nel mesenchima, nel tessuto connettivo dove vivono le nostre cellule. E abbiamo fatto degli studi importanti pubblicati su riviste scientifiche dove abbiamo dimostrato che Cellfood nelle cellule endoteliali UV, che è il cordone umbilicale umano, aumenta la produzione di ATP, aumenta il consumo di ossigeno, dimostra la capacità antiossidante per ridurre i radicali liberi. blocca proprio l'attività di proliferazione cellulare. Quindi è fondamentale nel supporto a scopo preventivo. È un nutraceutico, è un integratore, non è un farmaco. Attenzione, quindi non cura le malattie. Le malattie le curano i medici con la loro diagnosi, con i loro consigli e con le terapie appropriate. Vedete, aumenta l'ossigeno fino all'80%, è una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Quindi se dobbiamo scegliere un integratore, dobbiamo anche chiedere se questo integratore ha una capacità antiossidante. Cellfood in questo caso è un prodotto che ha una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano, in grado di ossigenare i nostri tessuti, di modulare. Quindi è un modulatore fisiologico di ossigeno on demand. Perché una volta che lo si assume e si mette nell'acqua, questo prodotto attiva una cascata esotermica di liberare ossigeno, ossigeno-idrogeno allo stato nascente, che viene utilizzato a seconda delle specifiche esigenze individuali di ogni persona. Quindi aumenta l'ossigeno, aumenta la produzione di energia, depura l'organismo in profondità e quindi permette di supportare anche atleti oppure le varie protocolli terapeutici che naturalmente i medici sanno benissimo consigliare ai loro pazienti. La sua spiegazione è stata veramente semplice, ma ben articolata anche per chi non tratta come vuoi la materia nel quotidiano. Quindi qui abbiamo una risposta a una problematica comunemente diffusa, vero dottore? Chiedo a lei che insomma di paziente di ogni età ne tratta e ne ha visti e ne vede nel quotidiano. Quindi come ci possiamo attivare? Mi piacerebbe riprendere anche il test che abbiamo raccontato nella scorsa puntata. C'è entrato in pieno. Cioè noi oggi abbiamo bisogno di una visualizzazione di quelli che sono i cofattori che intervengono nell'attività mitocondriale e che non possono essere analizzati da un esame che va a misurarli in maniera ponderale. Ma un esame biofisico come l'S-Drive ci permette proprio di avere una visualizzazione completa di tutti i fattori che intervenendo in quella capacità di gestione dell'attività respiratoria intracellulare del mitocondrio ci stanno avvisando, ci avvisano, che quell'attività è un po' in deficit o che comunque va sostenuta. Quindi dobbiamo cambiare proprio il livello diagnostico. Dobbiamo andare in un livello subliminale. Dobbiamo andare in un livello predittivo. Dobbiamo iniziare a lavorare. Io lo faccio perché sono anche il medico di una squadra di Liga Pro, il Monopoli, la squadra della mia città. Ha avuto la possibilità di utilizzare anche il self-food. Vi dico con grandi soddisfazioni. Noi abbiamo fatto anche per due anni il test del bulbo. Le applicazioni, come ben dicevi, possono essere in tutti i campi. Si può andare dall'atleta, e quindi per migliorare la performance, a chi nella propria vita deve mettere a disposizione proprio la sua energia vitale per aiutare il prossimo. Quindi è necessario proprio entrare in questa ottica, cioè nell'ottica di prevenzione. Non dobbiamo aspettare, come diceva il dottor Terziani, che arriviamo ad essere attaccati all'ossigeno, ma dobbiamo lavorare proprio su questi sistemi subliminali e il test del bulbo diventa indispensabile strumento per poter capire in che fase siamo. E quindi in quel momento intervenire e poi poter rimisurare, perché immagina poter fare un test del bulbo che attraverso il prelievo di quattro bulbi in dodici minuti ti dà un risultato immediato e poterlo visualizzare dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo nove mesi, è una cosa semplice. E peraltro non è un test che ha bisogno di grandi supporti. Non è invasivo. Sì, pensavo agli esami del sangue soltanto, ma si può fare anche nei bambini questo test? Sì, abbiamo un test specifico, proprio test per i bambini, che si fa sul bulbo del capello e sulla saliva. Però ritornando al self-food, che mi piace proprio focalizzare questa cosa, prima avevamo visto degli studi scientifici anche interessanti, dove abbiamo dimostrato proprio che self-food è proprio un supporto importante per le malattie cardiovascolari, sulla stanchezza cronica, nella fibromialgia, nel supporto dell'atleta e abbiamo fatto uno studio pubblicato su 230 pazienti con patologie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, dove abbiamo dimostrato che tutti i parametri del sistema antiossidante vengono migliorati, viene migliorato anche il glutatione, anche qui vediamo che è un colloide, cioè cosa vuol dire? che è altamente biodisponibile, assimilabile e quindi in pochissimi secondi è già nel sangue, perché è un sublinguale, lo beviamo, si mette in un bicchiere d'acqua, si beve colazione, pranzo e cena, quindi permette di un'assunzione semplice come bere un bicchiere d'acqua, è molto semplice, anzi ti aiuta anche a bere di più, perché almeno così le persone che si dimenticano di bere, lì bevono almeno tre bicchieri d'acqua al giorno, prima dei pasti, e si aumenta gradualmente si arriva normalmente alle otto gocce tre volte al giorno, ma quello che volevo dire è che negli studi che abbiamo dimostrato, anche per esempio viene ridotta l'omocisteina, ridotta lo stress ossidativo, quindi l'eccesso di radicali liberi, aumentata la capacità antiossidante, se un organismo non ha un adeguato apporto di capacità antiossidante, non è in grado di contrastare l'eccesso di radicali liberi, e cosa vuol dire? Non è in grado di spengere l'infiammazione, questo è lo studio importante, il self-food proprio migliora il metabolismo mitocondriale, quindi penso che qui possiamo veramente lavorare a 360 gradi. Un'infiammazione silente, dottore? Sì, siamo nell'epoca per esempio della sindrome metabolica, siamo nell'epoca delle malattie neurodegenerative che purtroppo colpiscono anche, stanno colpendo anche l'età giovanile, siamo nel periodo delle malattie e nei disturbi del neurosviluppo che colpiscono tutta l'età infantile, e se pensiamo a tutte le malattie cardiovascolari e non diamo importanza al mitocondrio, all'ossigeno, stiamo perdendo una grande occasione come medici, non dobbiamo aspettare che si presenti la malattia, dobbiamo lavorare nel pre, perché prevenire un danno endoteliale permette poi di non sviluppare un atto ischemico, un atto ischemico che se avviene nel cuore, chiaramente sappiamo le conseguenze che dà, se avviene nel cervello diventa un'epidemia silenziosa del cervello che porta poi allo sviluppo di quelle che sono le patologie più anche pesanti da un punto di vista gestionale, quindi parliamo di tutte le malattie neurodegenerative dell'anziano, per poi ritornare appunto all'età infantile, giovanile, dove comunque noi abbiamo proprio il dovere di occuparci di questa nuova epidemia e quindi come ancora continuare a sottovalutare l'epigenetica, continuare a lasciare il terreno materno come linea primaria ma anche quello paterno danneggiato, non intervenire, continuare ad aspettare e continuare purtroppo ad aumentare tutti quelli ambulatori dove purtroppo genitori disperati che cercano di aiutare questi figli, dove praticamente spesso dietro non c'è una diagnosi ma c'è solamente tanta sofferenza. Quindi benvengano queste occasioni come questa che ci state offrendo per poter parlare di argomentazioni con semplicità, perché lo stiamo cercando di fare con linguaggio semplice, ma con profondità per far comprendere anche appunto il senso della missione sanitaria della nuova società. La grande responsabilità che abbiamo. Che voi offrite a noi, mi viene da dire perché ascoltare questo lo è per me ma credo anche per i nostri telespettatori un'occasione per migliorare. Ossigeno un pass per la vita www.cellfood.it è il luogo virtuale dove possiamo rivolgerci per approfondire. Questo è un progetto che ha una struttura, mi piacerebbe dedicare ai dottor Terziani proprio queste ultime battute, una struttura importante, un comitato scientifico, ricerche scientifiche pubblicate. Perché? Troppo facile contrastare la scienza, no? Perché l'abbiamo detto, la scienza arriva dalla natura in realtà, cioè da questo organismo perfetto quasi come quello dell'uomo, dottore mi viene da dire, dove quando c'è qualcosa che non va viene lamentato e viene sicuramente mostrato come la nostra terra ci racconta, se vogliamo. Ecco, possiamo raccontare un po' meglio proprio la struttura di questo progetto? Come operate? La volta scorsa lei ci ha detto che tutto questo è nato da un'esigenza dopo un avvenimento importante della sua vita e lì ha costruito poi un team. Nulla accade se prima non si sogna, no? Dicevo nella puntata precedente. Beh, i sogni sono quelle cose che se incominci a aprire i cassetti vengono fuori anche i desideri, idee, progetti e il progetto principale è quello di poter creare cultura verso più persone possibili, quindi incominciare a aumentare la responsabilità di ognuno di noi verso queste informazioni e lo facciamo attraverso la divulgazione medico-scientifica con convegni, seminari rivolte a medici, nutrizionisti, farmacisti, insomma, che ci permettano di insegnare, insegnare è una parola grossa, di condividere, perché poi non puoi insegnare, sono medici talmente preparati e bravi che salvano la vita ogni giorno da tante persone. Lo sappiamo, quindi noi dobbiamo solamente condividere queste informazioni a scopo di come fare per fare vera prevenzione. E lo facciamo, abbiamo scritto un libro, la modulazione fisiologica di Ossigen on Demand, edito da Edra, è un libro che si trova anche online, si può scaricare, dove c'è proprio, ci sono tutte le ricerche, i casi clinici a disposizione. Ricordiamoci che è un nutraceutico, è un integratore alimentare e questo progetto vuole proprio divulgare la consapevolezza che noi siamo l'ambiente in cui viviamo, siamo quello che pensiamo, siamo le emozioni che proviamo e noi dobbiamo continuare a coltivare proprio queste emozioni nelle persone, questa voglia, questa fame di sapere, perché solo la conoscenza ci rende liberi, come sappiamo. Quindi noi dobbiamo conoscere, condividere con più persone possibili. Quindi grazie di questa meravigliosa chiacchierata e opportunità che ci avete dato di condividere un sogno, quello di aiutare le persone a vivere meglio. E quello anche di, soprattutto, di trasmettere che dobbiamo essere felici, nonostante i problemi, parlavo del mio incidente stradale, quindi ero quasi in fin di vita e oggi sorrido alla vita e dico grazie tutti i giorni che vedo la luce. Ecco, dovremmo iniziare a incominciare, come si dice sempre, imparare a danzare sotto la pioggia, però con un grande sorriso, perché il sorriso è qualcosa di straordinario. Sorridere con il cuore, con la mente, con l'anima e essere felici, che tanto prima o poi l'unica cosa sicura è che la vita finisce. E quindi che senso ha? Polvere, eravamo. Dottor Terziani, grazie per essere stato con noi, grazie a selffood.it, grazie al dottor Allegrini e grazie a tutti voi per l'attenzione. Noi ci troviamo sempre, insomma, sullo stesso canale, sempre qui in zona blu per raccontarvi l'impresa, per raccontarvi la nostra meravigliosa Italia e perché il nostro presente è il futuro. Alla prossima puntata.